ciao a tutti allora sono appena tornato al lavoro e ho trovato questo pacco qua adesso vi faccio vedere quello che c'è dentro vedete che mi metto così così vedete meglio ed eccoci qua ho comprato acido citripa questo qua ho pagato 14 euro 29 quasi 15 euro questo qua ed è 2 kg 2 kg di acido citripa è il miglior prezzo che ho trovato fino adesso come lo uso lo uso fate che mi metto un po più comoda acido citrico lo uso al posto di amore di dente da 22 3 anni che non compro saranno due di sicuro tre anni che non compro più amore di dente uso sempre acido citrico ci metto due cucchiaini piccoli una vaschetta e basta uso colori poi acido citrico uso come decalcare per la macchinetta del caffè poi faccio anche uno spruzzino adesso vi mostro eccoci faccio sempre uno spruzzino tipo così ci metto due cucchiai grossi di acido citrico e poi l'acqua allora scusate però visto orario sarà meglio che incominci a fare qualcosa da mangiare niente vi racconto dopo visto che ho un po di tempo libero stavo pensando di fare le tigelle oggi scusate adesso lo impassiamo dopo ne parliamo anche di acido citrico però prima voglio fare questo qua facciamo insieme se volete ho il mio libricino qua con tutte le ricette allora ci mettiamo 5-5 grammi un po di mela allora 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 Praticamente devo mettere 320 grammi di acqua, poi 120 grammi di latte. E poi facciamo più o meno, non è che facciamo al massimo aggiungiamo un po' di farina. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.